Il 28 giugno a Catanzaro anche la CGL parteciperà alla manifestazione contro ogni forma di discriminazione. Vi aspettiamo tutti in piazza, con movimenti e associazioni, siamo tutti insieme. Sono Marco Marchese dell'Associazione Radicale Certi Dritti. Catanzaro non discrimina. Catanzaro non discrimina, accoglia tutti con il sentimento, onoramo gli sui diritti, che è un mondo più contento. Associazione per te, stop violenza sulle donne e la mente termine. Catanzaro non discrimina. Comunica di meno, Catanzaro non discrimina. Buonasera a tutti, sono Davide Sgroinart e Sgrodolina. Vi aspetto il 28 giugno in piazza prefettura a questo evento alle ore 17, perché Catanzaro non discrimina. Vi aspetto. Ciao, sono Francesco Bedillacqua del Cool Bay Resort Gizzeria Palerna. Catanzaro non discrimina nessuno, anzi, ci vogliamo molto bene. Federazione Giovanile Socialista, Catanzaro non discrimina. Notere al popolo, ecco, Catanzaro non discrimina. Il 28 giugno, ore 17, per la sua prefettura. Ciao, sono Sandro Gallittu, sono il responsabile dell'Ufficio Nuovi Diritti della CGL nazionale e a Catanzaro il 28 giugno ci sarò anche io e ci sarà anche la CGL per dire che Catanzaro non discrimina. Partito Socialista Italiano, Catanzaro non discrimina. Arci, Catanzaro non discrimina. Catanzaro non discrimina. Sono Alessandra di Friday for Future Catanzaro. Catanzaro non discrimina. Rifondazione Comunista Calabria aderisce a Catanzaro non discrimina. Al fianco di Silvana, di Davide e di Tutte e Tutti per rivendicare i diritti civili. Il Partito Democratico di Catanzaro insieme ai giovani democratici di Catanzaro sarà in piazza il 28 giugno. Catanzaro non discrimina. Il 28 giugno il Partito Democratico sarà in piazza prefettura. Catanzaro non discrimina. Acquamarina sta con Catanzaro che non discrimina. Vi aspettiamo il 28 numerosi in piazza prefettura. Asso Agri aiuta le famiglie disagiate e sostiene l'iniziativa del 28 giugno. Asso Agri non discrimina. Catanzaro non discrimina. Calabria resistente solidale. Catanzaro non discrimina. Sono Rossana, che è uno degli studenti di Catanzaro. Catanzaro non discrimina. Sono Lorenza, del coordinamento libera della provincia di Catanzaro. Catanzaro non discrimina. Catanzaro non discrimina. Mi distancuno. I diritti su Comupana non si nega a nessuno. NONONO